L'intervista, 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 l'intervista è veramente un spettacolo, un discorso che la città non merita. E' anche vero che la politica ovviamente ha anche nessuno dei suoi momenti di pressione, non deve sapersi investire, soprattutto si fa politica da diversi anni. Guarda, rispetto al documento del piano orientale, voi come gruppo della PPL, al di là di Orte di Rosana Fina, la questione politica, la questione infatti ha una conclusione tale, che quando noi parliamo di politica, quando parliamo della crisi della politica, quando parliamo della legge interazione della politica, ovviamente in questa rete pubblica stamattina siamo entrati tutti gli elementi della legge interazione della politica, come ci chiedi chi parla bello alla posizione, chi parla di bene della città. Ovviamente questo lascia a sottendere altri disegni, per cui non li nasconde, perché non esiste. Oggi stiamo in atti sono debiti, ma stiamo parlando di un pacchetto, di una manovra economica che basta della delibera dell'inio, basta del bilancio della sua interessa, ma stiamo parlando della presentazione alla città e il suo primo bilancio di questa amministrazione che già siamo a parte di generazione da cerare. Quindi io e i malipoti, anche se la gente si sta attenzionando di più, che qua stiamo qui sul personalismo, che si attacchiamo tra di loro, torniamo a mentre nel centro i problemi della città. I problemi della città, guardate voi siete stati eletti, la gente già ovviamente deve stare a un po' di giù, e dovete parlare. Però cercate di completare i modi di giù sul sindaco. Io ricordo quando stava il tema con il sindaco, c'era qualcuno che faceva la delle panche delle posizioni, a quello, allo stesso sistema, che qua non va da nessuna parte, con i numeri scuri, con ovviamente i singoli, perché c'è bisogno di una maggioranza politica che ha maturato azione. Oggi stanno succedendo pure, poi diciamoci la verità, cari amici. E questa maggioranza che si è presentata alle elezioni non aveva un'idea, c'è bisogno di un'attività di giù, ma non lo che ma lo avevamo subletalizzato, perché era una maggioranza da passare all'ultimo minuto per sconvincere il centro-verso. Questo lo abbiamo detto, ci siamo presentati, ma è facile questo ormai. Rispetto ai sostitivi, guardate, io capisco, forse, la questione del sindaco, io mi auguro che stamattina ci dice qualcosa di concreto, di questo simpatico politico. Ma anche voi, vedete, il fatto di andare sempre, dice andare andiamo avanti, andiamo andiamo avanti, ma voi non andate a questa parte, la politica è fatta, perché veramente si ha bisogno di tornare a parte di un'idea, la politica mi piace, se gli si parla non è una persona arrogante, e non è preso un'idea, ma sono una persona umile. Ma ricordiamo, per la parte iniziale, la politica, ovviamente la rete pubblica, deve essere da servizio di città, ci deve essere una democrazia, cioè stappiamo le regole della guerra, cioè ci stanno una maggioranza e ci stanno un'autodistica. E, perché oggi, con questo modo degenerativo, con un punto, che dopo, la comunità di città se va a trovare piano pieno. Scusate, se c'è una maggioranza, capito, le elezioni, e il procore se la provate, perché lo dove approvare? Scusate, ma anche per la rete pubblica, 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 diciamo, ecco perché la visione è politica, e noi, bocciando questi casi, ma noi bocciamo che pensiamo contro la città, qualcuno dicevano disammato, e beh, io sono razzurriato, e amo la mia città, ora, la città è venuta di qualcuno, ma c'è un dato politico, che va sottolineato, ma allo stile, guardate, voi stiamo a 100 anni, stiamo a 100 anni, e qua anche il riferimento a qualcuno che fa un'unica, la rete pubblica, perché quando si partono di generazione, vuoi anotare, portare le rete azioni politiche, con la rivoluzione, la città, la città, la deriva, unicamente, economicamente, e poi capire, quando fischiava, e inserisciate dentro il marzo, e inserisciate dentro il marzo, solo quei saspegiamente, che andranno la parte della macrona, noi facciamo quella opposizione, per il freddo della città 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 e sono tutte le città e si che cosa vogliamo capire passiamo al freddo dell'auto va in pista a vedere come andate andate a mettere il freddo per il freddo e io vi auguro che una gente si la vede altrimenti veramente non ricordiamo che la mente si vede in stato di rivoluzione altre che di rivoluzione si stai portando questa città senti anni dietro senti anni e lo dico veramente così ma quella è la cosa che mi va a fare che non lo so resta un'està che nel modo semagro tu non devi essere l'uomo che poteva trasversare questa città in un momento nuovo che era come si chiede alla prima della prima obra che era la prima obra che era la prima obra che era la politica che potevano ovviamente la ricordazione della pittoria di un miliardo di proposizione che ha detto che ci trovano che ci trovano che è l'uomo che è l'uomo che ho trovato per la prima e l'uomo che ha fatto che ho trovato che ho trovato che ho trovato che ho trovato alla seconda all'autostrada la religione pubblica che si svegli ma non è una tante che è la casa il numero non c'è l'uomo a casa non c'è l'uomo cosa hai e che fai con te ha preso e con me io mi auguro questa non appena che credo che il caso della tragedia dell'azienda di questa cosa ho detto grazie 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 grazie